Io sono Daniele della Seta, sono il proprietario insieme a mia moglie Maria Pellegrini dell'azienda Terra di Seta, nella zona del Chianti Classico, vicino a Bagliagli. La cosa che mi piace di più per fare il vino in realtà è poter vivere nell'azienda dove lavoro, perché è un posto magico, il Chianti Classico di su è un posto magico, l'azienda è un posto stupendo con una vista eccezionale, si affaccia su Siena, sembra veramente quasi di poterla toccare, ha una vista da tutti i lati, quindi che domina l'area. Mi piace veramente svegliarmi la mattina in questa campagna e ovviamente mi piace raggiungere i risultati, quindi mi piace poter lavorare nei vigneti, lavorare in cantina e ottenere alla fine questi prodotti, quindi la soddisfazione di vedere il vino sulla tavola, anche di altri, insomma direi che è la soddisfazione migliore.